Allora, ben tornati alla parte numero... Dillo? 18... Aspetta! Mango, mango, mango... Ah, sei sempre solito! Vabbè... Ok, vai, tratta! Benvenuti nella parte 9 di System Shock 2 E oggi cercheremo di mettere a posto questa nave Come facciamo sempre Quando sto per toccare quelle cose Che dovevo mettere una tossina prima di passare a quel punto Esatto, cioè dobbiamo tornare indietro e fare altre robe Perché non possiamo... Però io credo di darmi un buo Adesso mi do un busto, occhio, attenzione Vai, sentiamo Vediamo Eh, minta, Isa che è bustato Allora, dobbiamo scendere di nuovo Scendili qua Perché non scende? Ok, vieni, vieni Sono più veloce di te adesso Dove vai? Di qua non siamo andati ancora Dove vai? Ma sono più veloce di te Vieni da qua Vieni da qua Sì, ma non è che se uno corre più veloce fa raccatatata E mi hai visto un bambino fare raccatatata quando corre? Non mi pare I bambini non corrono più veloci delle persone Hai visto un Bolt bambino? Uno che corre più veloce di Bolt No Oh Aspetta, aspetta Ma no, dai L'ho fatta fuori un secondo dopo Ma vaffa, ma Adesso arrivano E non possiamo andarci, lì mi sa Ah, arriva, arriva, arriva Ma dai, ti preoccupisci Ho notato adesso che il Il coso del sangue è epico su questo gioco Allora, oh, qui cosa c'è? Oh, cos'è questo? I poteri Per te, per te Sai, boost, mio, mio Occhio Oh, oh, oh Dove, 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 dove? È lì Bravo, brui Eh, cioè, stai davanti? Chi è quello davanti? Ti hai mica strato Io stavo per sparare Tutte scuse, tutte scuse Sì, guarda È così Oh, mio Dio I suoni che fanno ste tizie Questi sono veramente creepy Oh, attento a quello Oh, c'è un altro Ma che? Ah, c'è un serio Io me ne asquaglio Mi hanno fatto fuori l'amico No, la povera soda Non posso prenderla C'è un altro qui sotto Ci sono altri due qua sotto Ho notato Vabbè, passiamo di qua Sector A Non possiamo passare Perché non possiamo passare? Boh Signori È tempo di andare nella cella C'è troppo a merda Ah, schiaffo atomico Fallito Riprovo No, 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 no Mori, bravo Mi serve vita Prendite quelle robe là Venta avanti E te sei più armato di me Posso Un colpo È andato Aspetta che devo Rigenerarmi un attimo la vita Pense citare quella tizia Oh, oh, dov'è? Dov'è? Ma non la vedo Colonia E questo è il problema Dov'è? Dov'è? Ok, perfetto Sono contenti per te, Prud Ma adesso dobbiamo andare avanti Sì, ma dov'è la pipa? Qui non c'è La sento, ma non Non so Sì, la sento anche io Ma non so che è sotto È sotto, sotto, sotto Ok, allora Fami curare anche me Cosa ho visto? Uh, ti piacerà Oh, mio Dio Questa non l'avevamo trovato Cos'è? Oh, mio Dio Lanciarla da te Allora Vanna dal cielo Allora, allora, allora Ti dà la te Questo a me non serve a un cazzo Oh, c'è una figlia Ti dà rimanita là anche Cos'è tutta sta violenza Contro gli animali Da con le scimmie, va bene? Dove hai lasciato il coso per le magie? L'ho lasciato lì per terra Perché non me ne faccio nulla Lì per terra? Ma sei in aria Come si fa a utilizzare? Aha Adesso sì che ci divertiamo, Isaac Guarda qua Come lo stai tenendo Non voglio saperlo Ma andiamo avanti Lo stai tenendo come tutte le altre Vabbè, questo lo useremo solo nei casi disperati E facciamo fatica fra fuori le scimmie Oh, un'altra storiella Qui c'è anche un cyber moduli Prendo io Ah, io sono morto C'è un'altra scimmietta di merda lì Mentre stavo prendendo la roba Ne sono altre due Ok, un fucile a pompa Oh merda Oh nono, 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 un'altra telecamera Ma dai Che palle Adesso mi toccherà Ecco che arrivano Ok Io penso a difendere la zona Come si vuol dire Sono tentato di usare una granata Ma non lo faccio Perché se ne avrà persone vuoi tanto bene No perché non voglio sprecare i proiettili In modo inutile Non per questi Ecco che ne arriva un altro Mi preparo lo schiaffo atomico Eh che cavolo Se ti manca la prima volta Devo curare Devo curare Non voglio Cupide armi Si rompono Con un niente Atomico Ripara Allora Che sto camperando E sto uccidendo Robin In frattempo Ma tu sei venuto a me Non sai quante cine sono morti Ti c'è il cimitero Ma dove corri te Muori Le Allora Ti c'è anche la storiella Aspetta c'è una tizia cattiva Che mi ha ridotto la vita a uno Dai che qui c'è il cimitero Ecco che ne arriva un altro Bastardo mi ha colpito Prima che lo colpissi Sono morto di nuovo Stupidatizia che conti Io adesso gli vado No io adesso gli limo Guarda guarda adesso Andimi dov'è che ci penso io a sta tipa Eh never spawn Ma adesso ci penso io Non esisterà più sta tizia No Ecco non è un altro Che voleva fare le robe Oh Portable battery Bruit Ho trovato portable battery Ho visto uno anch'io Allora aspetta Questo vuol dire Che se lo finchiamo di batteria Lo mi arrivo Non lo so No sono morto anch'io Perché sono Ah questa chiave inglese Perché non può usare la spara laser Arrivo va Ci serve un po' di più di endurancia Eh proprio di sì Ehi Non voglio averne Però dov'è il robot Il robot Il robot E la tizia dov'è Non lo so Non l'ho visto io Bene bene Allora meglio così Perché non sono tanto forti C'è basta tagliato So con la chiave inglese Pam pam Poi mi muore Ecco quali sono tutti Sti calaveri Ecco quello che mi ha ammazzato Dove sono tutti Sti calaveri Eh ma dopo un po' sto un paio Ah prendiamo sta roba E aspetta Dobbiamo sentire la storiella La storiella La storiella Tu prendi fucile pop Ecco la gente inizia a sparire Gente sparita Data a quel tizio lì Mi sa che sono Quelle tizia da robotiche Che le ha trasformate così brutto Quelle tizia Veramente Ah ho raccolto la tessera d'accesso Al settore B Come banana Ma c'era là che era chiuso Il B non è chiuso Oh mio Prunviz Sai nuotare? Sì Vai vai Tu fatica è morbido Yeah Blu blu Sai nuotare veramente? Server rotante Ma che che ha? Server rotante ho capito Server rotante Veramente Sì a quanto pare Però adesso come faccio Siamo robot Come facciamo a nuotare? Siamo cyber Ah ma non è fonda l'acqua Potevi dirmelo Almeno è caldo Dai Sì ma adesso come facciamo Sto gli regini? E beh così Così Eh Eccolo Eccolo Ciao Dimmi se si raffredda l'acqua Aspetta che provi a letterizzarla Vediamo se No scusami Come diammi le facce Allora così Così Vieni qua Qua dove ci sono le foglie Qui Così Sì Cavolo stai facendo Così Là Così Visto? Così Eh Fatto Posta Fatto Sì sì vedo come Ma che Ma hai detto ciò Ti vedo solo Così Vedi Così Oh ce l'ho fatta Ok andiamo Ma provvizio Non l'è ancora capito Che se tieni premuto Il test di salto Si arrampica Sulle Sulle pareti Che Siamo Siamo Amica Cioè Siamo Diciamo Volo Moragno Va bene Ok No di là non c'è niente C'è soltanto due posti Per buttarsi Per quale motivo Hanno messo No Porta così Vabbè Magari ci sarà un easter egg segreto In quella porta Non so Qui è calda Oh mio dio Qua è pieno di Le terme Andiamo sulle terme Io non mi ci butterei No non possiamo Le terme Non possiamo andarci Qui ci sono molte uova Vabbè Allora non guardiamo No 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 Io so cosa vuol dire Bruiz Come stavi camminando così Guarda Io so cosa vuol dire Sono troppe uova Troppi immigrati No non ha fatto fuori solo uno Mi aspettavo di fila questo lanciacanato Beh dopo tutto è meglio Dei lanciacanato di Resident Evil Ma cosa No 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 Queste cose non mi piace È il Saksis che sta parlando Oh mio dio guarda sopra Cosa c'è sopra? Oh ma... Vero, vero Chissà se possiamo andare Ho c'ho Vermino lì Ma che? Mi hai ucciso Ma io ho preso il vermino Ma che? Cos'è che mi ha ammazzato? Ho tutto tipo una roba elettrica È una roba elettrica che mi ha ucciso Questa si chiama una di quelle tizie là Che non abbiamo sentito Stelta era Poi possiamo andare nel settore B comunque Quando vuoi Eh, dov'è il settore? Qui c'è il settore A Qui, dove sono io? Dove sono io? Era ingerissimo Qua Fammi salire L'uomo ragno lo chiamavano Lì siamo persi veramente dei pick up No, aspetta, aspetta che mi metto un po' di velocità in più Perché qua veramente son preso molto molto lentamente Devi farci una roba Da, andiamo Aspetta, aspetta, aspetta Dove è il settore B Questo Andiamo Passo Passo Passo, stai Bruiz Ok, ho notato una cosa Vediamo quanto tempo ci mettete a notarla Andiamo, Bruiz No, sì Sta arrivando un robot sbrigati Andiamo nel settore B che non l'abbiamo mai visto Vai, moriamo male Aspetta Di qua, di qua Oh, mamma mia Di qua, andiamo di qua Va bene Oh, guarda, dell'acqua, chissà se è fredda o calda No, aspetta, ma non siamo dove Un po' di tempo ci hai messo No, 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 questa volta l'ho capito subito Ah, di qua, guarda, però, ci non siamo stati Occhio, fantasma Oh, mio Dio, un fantasma Eh, vedi, qua dove torturava le tipe Sì, sì, tu guarda, fantasma Intanto mi sono rubato tutto Oh, c'è una spada laser Oh, ma che? C'è una scimmia Mori Ok, pensavo fosse la cacin Come faccio a mettere il... Activation mode Oh, là, provi Abbiamo un lettino per ricaricarci la vita Buono, aspetta che ti può Ricaricati tutta la vita Stai facendo cadere cose, provi Qui, questa Buona C'è se qui c'è un boss Abbiamo utilizzato C'è una tizia morta, Prevz Il problema è che io ho preso la spada laser Ma non me la fa usare Eh, no, devi avere agilità No, agilità, endurance Deve avere No, devo avere energia, mi stavo Abita con l'energia Sì, 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 è, infatti Energia a 4 Però se vuol dire che troviamo qualcosa Per aumentarci i punti No, la devo scegliere Io ho la spada laser Perché se io ho il tifo da corpo corpo Ok, che c'è la telecamera Allora, c'è ragione Allora, attieni a te Ce l'ho già una, provvizio Allora me la prendo anche io Vabbè, dai, chiave inglese No, voglio anche la spada Ah, posso prendere tutte e due al posto No Dove sei No Merda Si è messa a ballare davanti a me Ma che balla No Sei buona Dai, brava, balla Ma non romper le palle Fai anche rima Ah, aveva un PDA dentro di sé E tu muori Direi che era obbligatorio Devo uccidere Ok, qui c'è una telecamera No, sprechiamo colpi Ah, ma questa è una Guarda, un'altra Un'altra cosa Pruis Tre naniti C'è un Un altro PDA Leggiamo i due PDA Le nostre due storie Allora, vai Bollettino Ah, oh Dannazione Prima Ma stai scendendo dal nulla Pruis Vabbè, aspetta Però prima di far sentire tutte le cose Direi di far passare il tempo qua Prega, se no Tanto esploriamo sta bella Esploriamo sta bella stanza Oh, mio Pruis Guarda Ah, vai, elementi 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 Stavolta mi aiuteranno gli elementi Gli elementari Elementa Deficenti No Gli elementari, no Deficenti Stupidi Incapecenti Il criminale Eppa te Quanto ci vuole ancora, amica Trenta secondi Aspettiamo No, aspetta Però io avrei In mente di fare una cosa Prima Mi serve Ga Gallio Gallio C'è Gallio Qui Gallio Due di Gallio Addirittura Buono Il catalano che sparisce Gallio E CF C'è CF C'è CF C'è CF C'è CF Cerca CF No, non c'è CF Oh, perfetto Ora possiamo leggere Leggia Sentiamo Sentiamo Il nostro stream Sì, grazie Aia Hai avuto conoscenza Non si apre più la porta Non mi sorprende Non mi sorprende Se la tizia Che ha scritto Su quel PDA E quella lì Che adesso è andata Qui a terra No, no Era quella Perché c'era Suo DNA Lì Nelle cose Quindi Suppongo proprio Brutta fine Brutta fine Ah, che bella nave Prendi che modifico La pistola Finalmente Abbiamo un qualcosa Di nome Che è francese Come nome E non è bella Come Che cavolo sta succedendo Aspetta Ma Cosa devo fare? Cosa sta succedendo? CF Oh mio Dio Modifica completata Evviva Anche la pistola Modificata Allora Fammi prendere questo Fm Fm Cerchiamo Fm Non ti rendi Io Fm Oh, eccolo qua Fm 126 Sì Dopo l'uso Posso modificare ancora Il fucile a pompa Ok E questo qui invece Vabbè dopo vedremo Come dire Ah no Questi lanciano Io rimarrò un attimo A ricercare i vari oggetti Che abbiamo trovato Serve per Oh mio Dio Mi sta tenendo il fucile Per aumentare La nostra probabilità Di sopravvivere In questo postaccia Ok Bene Intanto te puoi andare avanti Sai Tipo Dove non batte La luna Eh ma No Ho fallito Mi sa Ma no 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 Adesso che siamo arrivati qua Cosa dovevamo fare Scusa Abbiamo preso Research module Abbiamo preso La vita infinita Qua No Non lo modificate E' perso Il lancio a granate Arma bloccata Merda L'ho rotta Sparo eh No E' il fucile a pompa Usa No L'OP hai perso Ma porca Fai Sei un'appo Repay Ah no basta ripararla To riparammi Research complete Adesso Aspetta ti dico Abbiamo 25 di danno in più Alle 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 scimmie Buono Eh Sì adesso ricerco Quello che Che E' l'idro di te E' l'idro di te Riparamelo Bello che lo fici La pompa ricarica Come C'è E' Occupa quanto una pistola Repair Skiller Quare 3 Io c'ho il 2 Mi dispiace Non posso fare più di tanto E' bimba Sono solo con la pistola No C'è anche lancio a granate Ma Quello mi è andato Per il boss Quale boss Ci sarà un boss finale Dai Supo che non ci sia un boss Ma credo che lancio a granate Non sia l'anno più forte Sb Cerca sb Aspetta che voglio farlo Eccolo qua Modifico di nuovo la pistola Se fallisci pure questa Mi incazzo Sta per fallire anche quella Esci prima di Cosare Reset Ah posso resettare Che pirra Eh bravo Come critica No Ah però non si è rotto Si si è rotto Fammi caricare la partita Ti do la mia pistola Ho carico Ho salvato prima Ma dai Sei stato furbo Io sto ricercando Va bene Non modifico più armi Ho capito Sto buono Bravo Sto buono Research Sb e V Cerca un altro Sb Proviso Dimmi se lo trovi Sb Sb si Nella scrivania Provedere se c'è Si E V Mi serve anche un V Si c'è il V e anche l'SB Ma non mi li fa prendere Ti li butto Sono sulla scrivania Eh grazie Come fanno stare Questi cosi giganti Nella scrivania Eh sapessi Sb le scrivania del futuro Ok allora Vediamo un po' Require E poi un altro Sb Perfetto Signori Andiamo Abbiamo quasi finito Di ricercare Tutti quanti I chimici I chemical Per Disintossicare Tutti quanti Quindi Possiamo andare avanti Di là no c'è la telecamera Non andare lì Proviso Bravo Vediamo come stia di qua invece Eterme Non c'è mica le uova e basta Parla Proviso C'è un altro robot lì in fondo Eh quello che mi ha ammazzato prima Di sorpresa No no è qui Qua Previso Dove sei? Dietro di te Oh Mamma mia Oh tu Oh uno ci ha visti eh Bravo Combenziti con il muro Fai così Il granchio Lo chiamavano Wow Che corpo mi ha tirato Proviso non ti sei ricaricato la vita C'è il caricatore della vita Proviso Falla prendere Ha ragione vado Yeeeh 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 Le Yeeeh Com Cos'era quel Com Ah ma sprechi i naniti Però Non ti Oh No non sprechi i naniti Mi dice Hai usato cinque naniti Per curarti Ah vabbè dai Sei pochi Dai non sono tanti Cosa ti aspetti Cosa ti aspetti Cosa ti compri una bibita Che ti dà uno Andiamo Allora Te l'apriti da quella parte Da questa ok Ah ok Dimmelo prima però Anti uomo Vai C'ho pure i proietti No non sono anti uomo Quelli che funzionano Gli api funzionano Contro di loro Perché sono cyborg Sbrigati Dove stai andando Deve andare dall'altra parte Non possiamo affrontarla così Siamo troppo prossimi Mi hai colpito Pruits due volte No niente C'è la salita Cagata Le chiedo scusa Signora Isaac Cos'è Perché questo è russo C'è una pistola laser Pruits lì C'è una pistola laser La vedi Riesce a colpirmi Quella roba Con una pistola Grazie Prego Oh Sì Il mio vecchio amore Come dice Sirius Sam Allora fai fuori Quell'uovo avanti Ok Ti lascio col tuo uomo Eh Sta seguendo te Lo sai Oh mio dio Che cazzo Ho fatto quel verme Vabbè dai Sta seguendo me La velocità Assurdamente lenta Sì è abbastanza Quintanto prenderà me Oh È qua Scappare Scappare Isaac Pessare nei piedi Ok Abbiamo il virus Pruits Però non so come funziona Torniamo nella zona di prima E mettiamo fine a questa parte Anche perché Anche questa è durata fin troppo Non è vero Abbiamo fatto ricerche 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 Sono quasi le unici Quindi dopo Di mattina Sì Di mattina Ok Non diciamo Quando realizziamo Eh siamo sentiti Dio un pianto Devo di qua Dio un pianto Di qua Di qua Ok si che si può Guarda sono salito Sprigati 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 Ah lì c'è un modulo Sprigati Salta Ti prendo Ti prendo Prudiz No Ti prendo Non ti No di qua Prudiz Dove stai andando No aspetta Di qua Di qua Dove stai andando No aspetta Era giusto E di qua Devo andare a ricaricare La pistola magica Che ho preso Quindi mi serve la batteria Di qua Dove stai andando No però mi servono I PSY I PSY Non ho Quindi mi dispiace Ma appena troviamo Un negozio Che da PSY Ho visto qualcosa In quella porta Quale porta Prudiz Stai bene Ah Ok Qualcosa però Avevi visto Ma che Ecco Volevi essere ucciso Concludiamo Signori La parte Da dove abbiamo iniziato La parte scorsa Qui Come Bruce Aspettami Tan 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 Nella prossima parte Avveleneremo Quei Ratti Roditori Ma aspettami Ma sei già lì E uccideremo Tutti quanti Gli altri Nemici In cui E poi farmo fuori Il boss finale Che non si sa ne ancora Che cavolo sia Quindi Sono contentito Ti va bene Non siamo ancora Neanche a metà gioco Ma si si Facciamo fuori Il boss finale Beh Hai già preparato L'arma per il boss finale C'è sector D Addirittura Dobbiamo andare in sector A Oh mio dio C'è un nemico Ma tu non sei lì Bravo L'hai scoperto adesso Ma lo so che eri indietro Anche qualche Mi ha potuto essere così veloce Ok Il nemico muore Tu vieni Tu vieni qua adesso Ma dove sei? Sono nella parte giusta La parte giusta Non mi dice niente Dove? Settore B? No Sono tornato dove Siamo iniziato il video No? E dove è che abbiamo iniziato il video? Ma come dove abbiamo iniziato Allora sai dove c'è l'area Che muori Vai nella stanza Quella lì Di fianco L'area dove si muore L'unica stanza Dove si può accedere Quel piano E abbiamo finito Muori No E allora cavolo di tuoi Finisco il video senza di te Perché così impari Aspetta Aspetta C'è un amico Che mi sta dicendo Che devo venire da te Ah qua sei Ah No io sono al checkpoint Provis Non mi interessa Questa cosa non mi dice niente Comunque va bene Va bene signore Detto questo Ci sentiamo la prossima parte Un saluto a tutti quanti Un saluto a tutti quanti